letta magica oggi in questo nuovo video unbozzeremo uno scatolo di American Uncle che in poche parole me l'ha mandato diversi giorni fa un mio fans Piero Marek che lo ringrazio di cuore comunque come al solito prendiamo la zaccagna e procediamo con l'unboxing vediamo un po' cosa contiene questo scatolo diciamo si può dire che è una mystery box ok fino a qui ci siamo poi levamogli un po' questa carta ok American Uncle questa è ricevuta allora vediamo un po' cosa c'è allora ci stanno queste caramelle qua poi cos'è questo? frage stripteats minis original poi mogu doku al gusto melon melone queste patatine qua della hairzone bbq poi abbiamo abbiamo un kur shurros poi queste qua che sono dell'American Uncle delle match hit sono diciamo delle carte da gioco poi abbiamo questi tropical rudess poi abbiamo questi takis al gusto vulcano poi abbiamo dei goldfish baked al gusto sedar poi abbiamo queste patatine qua demarchiate parios si al gusto peanut butter poi c'è questo qua che sono dei cosi giapponesi poi abbiamo queste patatine della sariegu al tartufo poi abbiamo questi qua frolli frotloops questi pancake meats meats pancake mmens bibita e poi abbiamo per finire questa redbull candied sand ora non mi ricordo bene ora non riesco e questa fanta al gusto pineapple che dire niente c'è